Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto soprammobili Candela Arco Villaggio. Candela Arco da Müller-Klein Kunstsafe in Germania, con molti dettagli interessanti e bei colori naturali. La nube design è un trademark tipico e registrata per Müller-Candela Archi. L'arco viene eseguito su 120 Volt. Si prega di consultare i nostri supporti per la visualizzazione il vostro arco candela e il sonoro, che rende il vostro arco viva. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazonity, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.